Buongiorno a tutti, vi ringrazio di essere qui presenti. Il titolo del mio intervento, come ha già pronunciato la professoressa Breda, è La fortificazione alla moderna, da veroino detto il filarete, alla teorizzazione di Karl von Clausewitz. Quello che noi vediamo nello schermo è la prima raffigurazione di una fortezza bastionata. Ora possiamo dire che l'architetto, nonché scultore, a verolino detto il filarete, che viene a lavorare per il Ducato di Milano alla metà del Quattrocento, inventa la cosiddetta fortificazione alla moderna, oppure opera bastionata. E per circa 150 anni, quasi esclusivamente architetti, ingegneri, militari, lavorano a questo genere, a questo tipo di fortificazione, esportandolo in tutta Europa. A metà del Quattrocento noi abbiamo ancora immagini come, ad esempio quella che vedete, magnificamente dipinta dal Dürer, raffigura il castello del Buon Consiglio a Trento. Quindi abbiamo delle mura alte, atte a resistere a un assalto, un assalto improvviso, è difficile scavalcarle, bisogna abbatterle per entrare, e la difesa è costituita sostanzialmente dalle armi neurobalistiche, archi, frecce, mangani, catapulte, eccetera, eccetera. Ma, nello stesso tempo, sono già apparse su tutti i fronti europei le armi da fuoco. Non hanno la grande potenza che avranno successivamente, ma già cominciano a impensierire i vari signori. Ecco, questo che vedete è un esempio di un muro medievale, 1200, siamo nell'isola di Gotland, a Visby. Mura alte, intervallate da torri, barbacani e altre difese per spezzare la continuità del muro e rafforzarla. Ecco, un'immagine, diciamo, indicativa. Frecce, balestre e la difesa piombante effettuata dall'alto attraverso le caditoie. Valturio ci presenta tutta una serie di sistemi anche abbastanza curiosi, abbastanza ingegnosi, su come abbattere la fortezza che l'avversario ci pone innanzi. Questa è una raffigurazione di una riete, abbastanza curiosa, ha la forma un po' di serpente. Un altro sistema, se non si riusciva ad abbattere la cinta, se non si riusciva a superarla, bisognava passare sotto, ovviamente. Abbiamo esempi dal IV secolo, prima dell'anno zero, che ci parla di opere di mina, ovvero sia delle gallerie che arrivano fin sotto il muro di fondazione della fortificazione, vengono puntellati, la camera di mina, che poi chiaramente è il fornello da mina, viene puntellato e poi riempito di materiale resinoso, viene dato fuoco al tutto, i puntelli cedono e il muro, privo del sostegno, crolla. L'effetto mantice uccide quelli che non sono, quindi le fiamme, la vampata, uccide coloro che non sono rimasti, non sono morti durante il crollo. Ma il difensore può operare quella che è chiamata la contromina, ovvero sia andare a intercettare lo scavo avversario e demolirlo. Il sistema della guerra di mina e contromina, noi lo vediamo sostanzialmente fino a tutta la prima guerra mondiale, con un intervallo nell'Ottocento, perché a un certo bel momento le artiglierie diventano molto efficaci, e quindi è molto più rapido conquistare una fortificazione attraverso un fuoco di batteria, o una batteria da breccia, piuttosto che effettuare uno scavo da mina, che è sempre molto lungo, ma ad ogni buon conto garantisce sempre un risultato certo. Ecco un'immagine di quello che è un trabucco, sempre dal Valturio. Abbiamo il tormento, un pezzo d'artiglieria, tiro teso, e una bombarda. E qui siamo alla fine del XV secolo, quindi abbiamo anche queste macchine, questi strumenti, che effettuano un tiro curvo. L'importanza dell'artiglieria campale, dell'artiglieria da breccia, è quella di poter concentrare in un punto i propri colpi, quindi demolire quelle che sono le vecchie mura medievali, vecchia concezione, quindi non hanno una grande resistenza a questo tipo di urti. Generalmente poi, per ovviare, nella parte retrostante venivano eretti dei terrapieni, ma questi sono semplici esempi di tecnica e tattica. Questa che vediamo è la bombarda belga Mosmeg, venduta agli scozzesi nel 1449, un bel calibro, cioè un 480 mm. Generalmente i libri ci dicono che queste artiglierie avevano più un effetto deterrente, nel momento in cui venivano portate nei pressi di un castello, questo automaticamente si arrendeva perché pensavano di non poter fare fronte a simili pezzi di artiglieria. Poi in realtà avevano i loro problemi, non sempre le polvere erano ben calibrate, non sempre il ferro era ben fucinato e quindi i pezzi tendevano ad esplodere. Ad ogni buon conto sono stati usati come una certa, diciamo, tre ve lo avete successo. Ma vediamo il punto. A verulino detto il filarete. Il sistema fortificato nasce dall'intersezione a 45 gradi di due quadrati e l'andamento del perimetro risulta ad angoli salienti e rientranti. Otto torri rotonde, qui le vedete, stanno sui salienti e la loro congiunzione determina un recinto esterno ottagonale a cortine più basse. sulle cui metà vi sono le antiporte. Sulle porte e sulle torri confluiscono le strade radiali a prefigurare uno schema radiocentrico anche se il centro della città si conforma secondo una disposizione ortogonale. Ecco, diversi anni fa è uscito un libro da cui ho tratto queste parole, è scritto da Fara. Il sistema è la città, architettura fortificata dell'Europa moderna dai trattati alle realizzazioni. 1464-1794. Ecco, questo è il periodo d'oro della fortificazione a fronte bastionato. Mi sono appuntato. Conoscere le opere militari vuol dire sapere per quale motivo e in che modo siano state realizzate e a quale concetto di strategia rispondessero. Una fortificazione innanzitutto serve a proteggere chi è più debole o si considera tale, sia per penure di uomini di fronte ad un avversario più numeroso, sia di mezzi di offesa. La conoscenza serve alla riconversione dell'oggetto. L'oggetto in sé serve a ricordare chi siamo stati, anche se può continuare ad esistere assolvendo ben diverse funzioni dal motivo per il quale è stato costruito. Ovvero sia un po' un tema. Noi abbiamo tutta una serie di opere del passato, nel momento preciso costruite dai primi del Novecento fino a tutto il 1916, 17, anche 18, che sono lì mute. Cosa ne facciamo? Occorre recuperarle. Non riusciremo a recuperarle tutte, ma occorre individuare un metodo, un sistema per poterle riconvertire. Di conseguenza rimangono testimoni non abbandonati. Vi dicevo che l'architettura militare per lo sviluppo della fortezza fronte bastionato è italiana per un secolo e mezzo. Qui abbiamo un disegno attribuito a Giorgio Martini, alcuni lo attribuiscono a Leonardo da Vinci. Vediamo che il castello si abbassa, le torri si inspessiscono e vi sono tutta una serie di opere scarpate che servono a deflettere i tiri d'artiglieria e prevenire l'attacco da mina effettuato nel sottosuolo. Un altro bisogno di Leonardo, come vedete, il muro medievale è ben rafforzato e le cannoniere, le case matte dove vengono alloggiati i pezzi d'artiglieria, sono ben all'interno della fortificazione protetti da un eventuale lavoro di scavo avversario e appunto dal tiro delle artiglierie da breccia. Abbiamo ancora Leonardo, lui non solo teorizza una serie di sistemi scarpati, ma anche una serie di torri basse, circolari, che verranno poi riprese anche dal Dürer. Ecco, il Dürer è una stella che brilla nel panorama dell'architettura militare europea. e lui cerca di applicare questi grandi sistemi, questi grandi rondelloni, queste grandi forme curve dove le artiglierie, soprattutto di piccolo calibro, possono avere una buona efficacia. Ecco, ne vedete uno, un esempio, questi che vedete a lato sono piccoli fortini, ecco, questo tipo di fortificazioni basse, piccole, vengono usate in Europa fino attorno agli anni 30 del 500, poi vengono abbandonate per altri sistemi. Qui abbiamo Michelangelo, Michelangelo, 1475-1564, difesa, porta al prato. Vedete, la difesa della porta è garantita da questa sorta di tenaglione e queste righe che percepite nel disegno sono nient'altro che gli angoli di tiro, ovvero sia la fortezza è geometrica e tutto risponde a una geometria ben precisa. Questo perché non bisogna lasciare degli angoli morti, chiaramente nell'angolo morto l'avversario, una volta individuato, vi si insedia e da lì può attaccare i punti esterni della piazza. Non ovunque e non immediatamente vengono applicati i concetti difensivi. Qui siamo a Castelberzeno e vedete questo che è un grande torrione semicircolare costruito tra le mura medievali. Questo in basso era il vecchio spazio per i tornei. Ecco, le artiglierie innanzitutto si trovano di fronte a mure spesse, inclinate, che servono a deflettere i tiri. Gli spazi davanti alle fortificazioni sono tirati, rasati, come tavole da biliardo inclinate, dove chi difende ha sempre campo libero. Qui una particolarità, siamo sempre in una figurazione del Cinquecento, questo che vedete non è un forzato normale ma quello che viene chiamato fosso diamante per poter meglio assorbire le macerie di un'eventuale demolizione delle mura. La difesa principale è costituita dai bastioni, che sono questi assi di picche, nei fianchi rientranti, dove nei fianchi rientranti vengono alloggiate le artiglierie. Queste servono a tenere sotto controllo i muri di cortina. E quindi, qui abbiamo un esempio. Le mura di Bergamo. Le mura di Bergamo dicono, ah, non sono servite a nulla. Non è vero, una volta che Bergamo è stata fortificata dai veneziani, nessuno ha più avuto l'ardire di porvi un assedio, perché erano mura, per l'epoca, ma anche per oggi, impressionanti, munitissime. Nei fianchi rientranti c'erano più ordini di artiglieria, queste che vedete sono le due feritorie delle case mate, che alloggiavano i pezzi, ma sopra, in barbetta, venivano degli altri. Ecco, poi il sistema era articolato tra postazioni interne, quindi sotterranee, se vogliamo, per l'alloggiamento dei pezzi, con tutta una serie di sortite di strade coperte, strade del soccorso, la sortita, per poter rendere la fortificazione assolutamente dinamica, come poi teorizzerà molto bene Carl von Clausewitz nei primi dell'Ottocento. Ecco un'altra immagine di Bergamo, questa è la parte nord, è la forte San Marco. Ma costruire una fortezza bastionata, che cosa vuol dire sostanzialmente? Vuol dire mettere in moto, che piaccia o non piaccia, un'industria. Questa è una raffigurazione cinquecentesca di Giorgio Agricola sui lavori in miniera. Quindi per avere il materiale, adesso nello specifico fondere i cannoni, occorre recuperare materiale sottoterra. Quindi incentivare la coltivazione mineraria. Le industrie si sviluppano, le industrie fusorie, si lavora in minerale, lo si raffina e si cerca l'oro. Ora, noi quando sentiamo parlare di fortificazioni bastionate, pensiamo immediatamente a Vauban. Perfetto, benissimo, è stato un grande militare, un grande ingegnere militare soprattutto. Ma già in Francesco, uno, ve ne cito uno per tutti. Francesco De Marchi, 1504-1576. Vi faccio scorrere alcune immagini delle sue fortificazioni. Vedete questo grande rivellino che protegge l'accesso come articolato e le articolazioni interne sono tutti sistemi che precorrono i tempi. Le sue teorizzazioni, e non solo le sue, le vediamo applicate fino a tutto il 1700. Questo non è per fare un discorso campanilistico, ma proprio per vedere l'evoluzione. Poi, se non tutte le teorizzazioni dei nostri architetti militari vengono realizzate in patria, è perché a un certo bel momento vengono a mancare i soldi. Quindi vanno all'estero, all'estero dove ci sono più ampie disponibilità economiche, dove questi possono poi, questi nostri architetti militari, sviluppare delle fortificazioni a dir poco eccezionali. Vi è anche, chiaramente, oltre allo sviluppo delle armi, vi è uno sviluppo delle attrezzature. Perché? Perché non tutte le fortificazioni hanno un semplice alzato. Alcune che noi diamo per demolite, per perdute completamente, come ad esempio il forte di De Monte in Valle Stura, in realtà è semplicemente sommerso dalle macerie, perché il forte esiste tutto. è stato completamente scalpelinato nella roccia. Ad esempio, la parete che vi indico, che è la parete nord, ha un'altezza di 24 metri, tutta scalpelinata nella roccia. Inoltre, tutto il tenaglione verso Stura, così denominato, è anche questo scavato nella roccia, cioè ricavato a risparmio. Vediamo questo, è un segno di un fioretto, cioè di quell'attrezzo con cui si perforava la roccia e la si caricava con la cartuccia di esplosivo. Questi sono fioretti battuti a mano. Quindi c'è anche uno studio di quella che è la guerra sotterranea, quindi come scavare nel sottosuolo, sia per estrarre il minerale, sia per prendere da salto una fortificazione. Ho messo questa immagine, perché chiaramente è quella che è considerata un po' la città perfetta, Palmanova, alla fine del Seicento. Ora, Giulio Savornian propone la realizzazione di una fortificazione che ha solamente la parte bassa in muratura, la parte alta in terra. Questo non piace alla gran parte dei regnanti, perché comunque stava bene, non aveva una bella fisionomia, ma in realtà era assolutamente più funzionale di una struttura costruita interamente in muratura. Perché? Perché la parte alta serviva ad assorbire i colpi. I colpi affondavano nella terra e non sollevavano una gran teoria di schegge. Questo sistema viene poi riapplicato quando le artiglierie si sviluppano e vi è l'invenzione dei proiettili a forma givale, che hanno una forte carica di penetrazione, quindi poi hanno ovviamente una proiezione di schegge ben maggiore delle palle tonde. Questa è un'altra immagine. Qui abbiamo voluto inserire i tre sistemi del Vauban fatti con i bastioni, le tenaglie, i rivellini, la linea esterna con le piccole piazzaforti, dove si staccano poi questi bastioni, si riducono di dimensione e hanno queste sorte di frecce o controguardie che li proteggono e il sistema si sviluppa. Allora, con lo sviluppo delle artiglierie il tiro si allunga e di conseguenza il difensore cerca di tenere il più distante possibile l'avversario dal suo corpo di piazza principale. Cosa fa chi assedia? Si interra, quindi scava tutta una serie di trincei per potersi avvicinare alla fortezza avversaria e operare due tipi di attacco uno in superficie con le batterie da breccia che battono sempre nello stesso punto per demolire il bastione il secondo l'attacco in profondità con la mina ecco un esempio della trincea fatta con i gabbioni, la terra di riporto. Una volta che chi assedia si attesta sulla linea del fossato, tanto per intenderci, scava una trincea dove va a testare i suoi uomini e una difesa sotterranea, una galleria sotterranea per superare il fosso asciutto o allagato, arrivare sotto il piede del bastione e minarlo. Chiaramente dalla parte opposta si sviluppa tutta una serie di opere di mina e contro mina, ecco questo qui nello specifico è Gillot, 1805, un libro che ho trovato estremamente interessante, esamina, diciamo, un po' tutti gli aspetti della guerra sotterranea ed è presso la biblioteca militare della Teulie. Parlare dei sistemi bastionati si potrebbe andare avanti, io credo, dei giorni, questi qui ne sono alcuni, come potete vedere, ogni ingegnere militare è il suo. Nel Settecento abbiamo chiaramente l'industria che produce sal nitro, produce polvere da sparo, fonde cannoni, seguo un'immagine, questo è il disegno, questa è la realtà, Sebastopoli, il ridotto Redan, 1855, vedete i pezzi di artiglieria sono molto grandi, a fusti piccoli, ma molto robusti, sono manovrabili e la fortificazione sono un insieme che a noi pare caotico di gabbioni, terra, eccetera, eccetera. I brevetti sulle armi non mancano e vengono brevettati in continuazione ogni tipo di fucile, di pistola, di arma leggera, ma anche armi pesanti come questi mortai. e nel 1870 compare nell'esercito francese la mitrailleuse, azionata manualmente, questo chiaramente va a incidere poi su quello che è la difesa. E nel 1887 vi è la mitraillatrice Maxime, questa automatica a recupero di gas. ed ecco quello che cambia il panorama della guerra, la carica, il proiettile ogivale con la corona di forzamento e la carica rigata, quindi il proiettile è più veloce, va più distante, è più preciso e più micidiale. Qui vi prospetto, quello è un disegno, questa è una foto reale con la corona di forzamento, questo è un proiettile del 1863 dell'artigliera confederata, come vedete poi anche in questo campo le forme sono molteplici, questo è un proiettile perforante, i sistemi di caricamento dei cannoni a retrocarica, chiaramente, ma qui andiamo indietro di almeno 250-300 anni, questo è Leonardo da Vinci, codice a rundel, foglio 54 recto, già Leonardo da Vinci ci lascia questo disegno di perfetti proiettili, ogivali, allora viene da chiedersi e l'arma che li spara non ci è pervenuta nei vari fogli, questo dovrebbe farci riflettere, e poi vi faccio vedere questo, che sicuramente ai cadetti la cosa può interessare parecchio, al mio modo di vedere è sempre di Leonardo che la disegna, è nella raccolta reale di Windsor, la parte posteriore mi ricorda una coda di bomba di mortaio, potrei dire 1916-1917, ma il resto mi ricorda una granata decalibrata, le granate decalibrate vengono inventate, prodotte alla fine degli anni 90, 1989-1990, ma veniamo alle fortificazioni, allora, il libro cinese del Tao Te Ching, il libro del principio e della sua azione di Lao Tzu e del VI secolo avanti, dice raccolti si consegue, dispersi si fallisce, di conseguenza con l'aumento della potenzialità delle armi offensive, l'esercito deve trovare un'adeguata protezione, soprattutto perché in campo scendono, ovviamente come vi ho fatto vedere prima, le metagliatrici, quindi occorre raccogliere, occorre fortificare, questo secondo me è l'antessignana della Maginot, è il Forte Clouse nel Giura in Francia, un'opera colossale con 12 o 14 piani di batterie scavate dentro la montagna, una sopra l'altra. Questa è un'altra attiglieria ottocentesca, questa l'ho scattata nel Forte Mondasce in Svizzera, ed è un Bofors del 1889. Quindi anche la fortificazione a fronte bastionato perde la sua importanza, non è più rispondente alle tecniche ossidionali, tutto si deve interrare, tutto si deve defilare e le opere sono fatte per caponiere e per impianti che alloggiano in casa matta le artiglierie, questa protezione degli artiglieri e dell'artiglieria stessa. Quindi sono una serie di opere, queste qui sono di opere tipo Rocchi, che è il nostro grande ingegnere militare, ve ne scorro alcune, e poi tutta una serie di forti che vanno a comporre che cosa? La cintura bastionata. Allora, secondo Von Clausewitz su attacco e difesa, definizione della difesa, qual è l'idea fondamentale della difesa? Parare il colpo. Qual è la sua caratteristica? Attendere il colpo che si deve parare. E dunque questo è il carattere distintivo di ogni azione difensiva. Ma una difensiva assoluta sarebbe incompleta a contraddizione con l'idea di guerra, poiché equivarrebbe a supporre che un solo degli avversari compia atti di guerra. Perciò la difesa non può essere che relativa e il criterio sopraddetto non si applica che ha il concetto integrale della forma della guerra senza estendersi alle sue singole parti. Inoltre, la forma difensiva della condotta della guerra non si limita quindi a parare i colpi ma comprende anche l'abile impiego delle risposte. E come risposta ad un assedio vediamo che non bastano o non servono non si impiegano solamente delle opere costruite ma ci si serve anche di dighe e di canali per allagare vaste aree dove l'avversario quindi non può passare. Qui siamo in Vercellese e questo è il campo di Verona quindi vedete che dal corpo di piazza principale le opere tendono a circondarlo, allargarsi verso l'esterno. lo vediamo anche nel trinceramento di Colonia nel trinceramento di Roma nelle fortificazioni permanenti d'Oltralpe quindi vedete la città è cinta da una fitta catena con un forte principale e attorno ci sono tutta una serie di postazioni secondarie. Questo che vedete è Parigi con la grande teoria di fortificazione minore che la circondano questa qui è la bella fortificazione di Anversa se non vado errato e questa qui siamo già alle le antessignane delle batterie corazzate anzi questa è una batteria corazzata vera e propria tratto da un trattato di Brialmon della fine dell'Ottocento vedete che tutto interrato annegato nel calcestruzzo emerge solamente la torretta con il suo pezzo d'artiglieria questo è defilatissimo forte al ciappello a Genova costruzione 1897 arriviamo alla fine dell'Ottocento col nuovo secolo vi saranno le opere betonate in calcestruzzo di cemento armato il panorama che noi vediamo adesso mi limito a fare un esempio per l'Italia gli italiani calibrano purtroppo le loro fortificazioni su calibri bassi non superiore a 200 mm gli austriaci mettono in campo lo Skoda da 305 mm e spaccano le fortezze italiane gli austriaci usavano un concetto diverso soprattutto avevano il calcestruzzo vibrato quindi più resistente mi sono un po' dilungato concludo con la visione dei grandi pezzi di artiglieria e soprattutto la sorpresa che i giapponesi riservano durante la serie di Fort Arthur il Fort Arthur è tenuto dai russi i giapponesi non riescono a prenderlo d'assalto hanno delle perdine spaventose allora tutto si interra riprendono con la guerra di mina intanto che gli producono i grandi pezzi di artiglieria d'assedio con cui sbriciolano i forti russi qui abbiamo un'installazione S tipo Schneider questo è un forte svedese che rimane sempre sull'isola di Gotland all'interno di un campo trincerato ed ecco che fa la sua apparizione fanno la loro apparizione i reticolati i campi di filo di ferro spinato questa è una visione del Montecchio nord sulla difesa nella prima guerra mondiale si può ricordare un passo sempre di Von Klaus il quale dice se è vero che la difesa la difensiva è la più forte delle due forme di condotta di guerra ma che il suo scopo è negativo ne consegue che si deve impiegarla solo fino a quando se ne ha bisogno perché si è troppo deboli e che occorre al contrario abbandonarla appena si divenga così forti da potersi proporre lo scopo positivo ovvero sia quello dell'attacco perché vi ho messo delle galee veneziane perché mi piace pensare che i forti fungessero un po' come le galeazze che vennero poste due galeazze ogni gruppo dello schieramento europeo che affrontò la battaglia di Lepanto queste due galeazze su ogni gruppo di fronte ogni gruppo serviva a spezzare l'assalto delle galee turche perché perché le galeazze erano più grandi più robuste chiaramente si manovravano meno bene delle galee però erano armate potentemente armate con pezzi di artiglieria e questi hanno scompaginato l'assalto avversario ecco un po' così e quindi i nostri forti hanno quella funzione di scompaginare di dissestare l'assalto avversario anche perché quando si assalta una fortificazione soprattutto un campo trincerato non si sa mai quante persone questo possa contenere e non lo si può lasciare alle spalle a proposito delle piazze forti dice sempre Von Klauschowicz la piazza forte non va vista come un deterrente da mettere innanzi all'avversario perché una piazza forte che costringa ad un vero assedio e sia in grado di sostenerlo pesa naturalmente molto di più nella bilancia della guerra di una che con le sue opere si limite a tenere lontano il pensiero della conquista di quel punto e quindi non assorbe realmente forze eccessive e non le logora il logoramento è il leitmotiv della prima guerra mondiale perché perché tutti gli eserciti a accezione di un tenente di fanteria francese e conseguentemente da parte di alcuni generali tedeschi capiscono che non si può condurre una vita di trincea per il solo esclusivo logoramento poi vi faccio vedere un libro vi mostro la copertina ma quello che gioca un'importanza fondamentale anzi che lo ha giocato già dalle guerre napoleoniche è il popolo il popolo del territorio conquistato va controllato quindi è causa di dispendio di uomini energie da parte dell'attaccante in difesa il popolo che è il proprio si comporta in modo cooperativo per obbedienza civile e per abnegazione ma anche la cooperazione volontaria che deriva da vera devozione alla causa è sempre importante in quanto non manca mai almeno nelle forme che non costano fatica questo che vediamo è Forte Serrada sono i forti austriaci ho sforato ve li faccio vedere rapidamente tanto poi vi sono persone che vi parleranno ampiamente delle fortificazioni questo è il forte Dualmont 1873 1902 che benché vecchia come fortificazione fortificazione francese assolve perfettamente i suoi compiti e questo la vediamo bombardata dalle artiglierie di grande calibro tedesche e qui siamo alla guerra di trincea dove come ha ricordato Maria Antonetta Breda vi è il trinomio reticolato trincea mitragliatrice le opere sotterranie vengono ampiamente sfruttate si sfruttano le caverne si scavano ricoveri in caverne postazioni d'artiglierie qui siamo sul castelletto a ridosso della fotofana e questo è il volto della terra di nessuno chiaramente le armi leggere hanno un grandissimo peso per quanto concerne l'applicazione del trattato della guerra da parte dello stato maggiore italiano non essendo il tema del mio intervento mi limiterei a una sola frase parola del tenente colonnello di fanteria Emilio Canevari pubblicata nel 1939 nella rivista Artiglieria e Genio nel seguente contributo Clausewitz e la teoria della guerra e il colonnello Canevari cosa ci dice le idee di Clausewitz sono state sono quasi completamente sconosciute in Italia e questa lacuna ha scritto su eccellenza il maresciallo Caviglia influisce sulla instabilità delle basi della nostra dottrina militare per quanto concerne il fronte montano e in primis quello delle Dolomiti posso considerare che l'opera di fortificazioni permanente retta dagli ostriaci e nello specifico le batterie corazzate ovvero i forti hanno solto perfettamente alla loro funzione ben strutturati hanno formato l'ossaturo del fronte i concetti di difesa soprattutto di difesa dinamica hanno trovato nel fronte montano tenuto dalle truppe ostriache che è una buona applicazione a mio avviso innanzitutto perché la difesa è stata assegnata anche e soprattutto alle truppe territoriali a cui va il merito principale della tenuta iniziale del fronte stesso e questo proprio esattamente come teorizza Von Clausewitz cioè occorre impiegare la milizia popolare posso concludere dicendo che i territoriali gli Schützen avevano la perfetta conoscenza dei luoghi da difendere avevano le proprie case i propri familiari esattamente alle spalle delle postazioni che difendevano erano consci del fatto che erano stati attaccati in seguito alla rottura di un trattato di non belligeranza erano quindi consci vi riporto testuali parole di un tradimento pertanto erano motivati era molto più motivati alla resistenza nel libro di Gunther Langer La guerra fra rocce e ghiacci vi è la foto di un anziano combattente della grande guerra sul fronte dolomitico che vedete in fotografia si tratta di un caporale così recita Gunther Langer nella didascalia un caporale degli Standschützen che già nel 1866 è stato decorato dalle medaglie d'oro al valore della guerra contro l'Italia ed è nuovamente sceso sul campo allo scoppio della guerra nel 1915 vi ringrazio grazie a tutti